All'agrigento presso il centro Pasolini è stato presentato il romanzo Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia di Giuseppe Rizzo da Gian Giacomo Feltrinelli, editore Milano. Sono intervenuti l'autore Antonio Liotta, Mario Gazziano, Liborio Triassi, Antonio Patti e Nino Agnello. Ascoltiamo in proposito lo stesso Giuseppe Rizzo. La sua agrigento Giuseppe Rizzo ha spiegato al centro Pasolini la sua piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia. Sì, è stato un incontro molto bello perché ovviamente il libro è ambientato tutto nell'agrigentino quindi un confronto con chi in questa provincia ci vive, come io ci sono nato, è stato anche proficuo perché ovviamente presentandolo in giro per l'Italia e anche per la Sicilia ognuno di chi ha preso il libro cercava di riportare tutto alla propria provincia però ovviamente presentarlo all'agrigento per me era molto importante. È un titolo catastrofista che solleva oggettivamente tanta curiosità. Qual è la piccola guerra lampo e perché per radere al suolo la Sicilia? È un titolo ironico che abbiamo pensato assieme alla casa editrice perché desse l'idea di una guerra che fosse però ironica. La cifra di tutto il romanzo è ironica ed è una guerra e ai luoghi comuni che attanagliano la Sicilia e alla malavita che c'è nella nostra provincia e che c'è in tutta l'isola e che però usa le armi dell'ironia per portare avanti questa piccola guerra lampo. Si tratta di una delle opere di Giuseppe Rizzo, altre in cantiere? Io guarda, ovviamente è troppo prematuro per dirlo però penso di continuare a scrivere.